buongiorno a tutti stamattina testeremo pavarm columba canna 71 4 stelle gemini portrait cartucce 32 grammi piombo 9 distanza 20 25 30 mesi e adesso 30 mesi andiamo a vedere questo è un test che a me piace molto perché io sono quasi sempre propenso a usare canna abbastanza diciamo larghe però vediamo cosa cosa succede allora adesso inquadratura partiamo da 20 metri vedete una rosata piuttosto compatta una distanza di 47 centimetri per 40 piombo 9 vedete massima espansione per una cartuccia a breve distanza con contenitori adesso alzo un attimo a vedere qui siamo ai 25 metri guardate che rosate qui siamo ai 30 abbiamo comunque rosate sempre ben compatte fu sparando 60 centimetri per 55 62 centimetri per 60 cioè 20 25 30 metri cartuccia 32 grammi piombo 9 con contenitore strozzatore 4 stelle cosa dire e 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